Allora ci siamo, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi ritorniamo a parlare di questo famoso cashback che ha già stato 3 telefoni, app io, 3 banche diverse, 3 persone diverse, 3 operazioni diverse Vediamo i 3 casi e parliamo subito prima delle cose positive, poi vediamo cosa è successo C'è qualcosa di assurdo proprio Caso mio, caso mio è io, banca ING, famosa no? ING Direct, nulla da dire per il momento Come va? E allora, vi faccio vedere E no perché poi qui è, iniziamo con questa, poi parliamo delle altre due banche con altre due persone differenti Cosa è successo dall'8, quando inizia così? 8 dicembre al oggi 29 dicembre, app io Entriamo Queste sono le due carte mie assegnate dentro il portafoglio dell'app Io, ok Andiamo dentro al cashback Questa altra carta è assegnata tramite, ve lo dico, tramite AIP, quindi ho partecipato, l'ho inserita lì e me l'ha rilevata poi in automatico qua dentro E va bene, ci stai, giusto Anzi, mi stupivo del contrario Comunque non l'ho mai utilizzata durante questo periodo L'unica che ho utilizzato è la carta di credito Adesso, badate bene, non banco ma carta di credito 22 dicembre ed è vero perché in realtà ne ho fatte altre due oggi Che è 29 e quindi è giusto che oggi l'app non me le visualizza Quindi dovrei stare a 8 ma l'app ok Ci può stare che me ne visualizza 6 E andiamo a vedere gli importi Che sono questi qua E il cashback che mi ha dato ogni singolo importo Perfetto È giusto? Non è giusto? I conti tornano? I conti non tornano al castello? No, vabbè, questo è pessimo Andiamo avanti Questo è il riepilopo Quindi, presi i pagamenti dalla mia banca Quindi, il 9 e 12 Effettivamente ho pagato questo importo? Sì Dal negozio Il negozio ve lo lascio Almeno per quanto mi riguarda io ve lo posso lasciare Da Media World Media World di Roma Ho pagato questo importo? Sì Il cashback è giusto? Sì Perfetto Il 17 e 12 Sono andato in questo negozio Ho pagato questo importo? Sì Cashback il 10%? Esatto, sì Perfetto 20 dicembre Ho pagato questo importo Perso questo negozio Esatto Il cashback è giusto L'importo è giusto E queste sono tre giorni diversi Poi, mentre ho fatto tre operazioni Lo stesso giorno del 22 dicembre Tutte e tre le operazioni Sono state rilevate dalla banca Sono state rilevate dall'app.io Perfetto Io sono a posto A me funziona tutto Sarò uno su mille? Sarò uno su un milione? Forse sì Forse sì Perché Piano piano Quindi io per il momento Sto a posto Io ho usato la carta Sempre la stessa Sempre con quella carta Che è la mia carta di credito Della banca IngeDirect Ho fatto sei operazioni Sei operazioni Registrate correttamente E questo è quello che dovrebbe Essere la teoria Di tutti gli italiani Come si usa l'app Come si usa la carta E ho fatto normalmente Il procedimento che mi diceva il sito Carica Inserisci i dati Nome Cognome Le cifre della carta Data Di scadenza Cvv Conferma Abilita per il pagamento Sul cashback Abilita il cashback E' fatto Quindi sono comunque Sei negozi diversi Non ce n'è uno uguale Sono tutti e sei diversi Dopo quanto Voi mi dite Fatemi la domanda Esatto Dopo quanto Il pagamento E' risultato Sul cashback A me in genere In circa 48 ore Ci sono volute Quindi Non il giorno dopo Ma il secondo giorno Posso dire Intanto all'ora di pranzo O Subito dopo pranzo L'importo Era visualizzato Sul cashback Ed era aggiornato Perfetto Quindi io Tra me e me Dico Chi l'ha fatto con banca IngiDirect Ha avuto problemi? Sì no? Che vediamo nei commenti Chi l'ha fatto con banca IngiDirect Sia con carta di credito Sia con Bacomat Che con prepagata Perché magari con quello C'è una prepagata Della IngiDirect Ha avuto problemi? Ho andato tutto liscio? Fatemi sapere Questa cosa Andiamo avanti Seconda persona Seconda banca Iniziano i problemi Ritornando tra noi Per farvi un'idea La carta che ho usato Io della IngiDirect È questa qua La carta oro Ok? Carta di credito oro ING Nulla da dire Seconda banca Si parla di intesa San Paolo E qui si parla di Bancomat Ve la faccio vedere Subito È questa qua A parte che Non ci sono dati sensibili Se non solo il nome E il cognome Ok? Questa è blu E guardate bene Badate Ha due loghi Due circuiti Circuito carta Che in questo caso è Mastercard O circuito Pago Bancomat Funzionano tutte e due Ne funziona uno Dove va aggiunta La carta All'interno dell'app Io Nei metodi di pagamento Dove c'è la voce Carta di credito Debito prepagata O dove c'è la voce Carta pago Bancomat Quando vado in negozio E la tizia Se me lo chiede Mi chiede Carta o Bancomat? Famosa frase Che devo rispondere io Se capisce niente Confusione Confusione Vediamo adesso Il secondo telefono Quindi Andiamo sull'app Io Vi faccio vedere Eccolo qua Questa è la situazione Andiamo su portafoglio Ci sono due carte Una che finisce con 0,2 Una che finisce con 41 Questa persona Ha sempre utilizzato La carta Mastercard Quindi quella con 0,2 La Visa non l'ha mai utilizzata Andiamo a vedere Nel cashback Cosa ci dice C'è un importo accumulato Di 3,42 Con 3 transazioni valide Su 10 Con l'Iban inserito Dettaglio transazioni Queste sono le operazioni Che secondo L'appio ha fatto Con questa carta 17, 18 E 21 Dicembre Con gli importi E il cashback Ovviamente è giusto Relativo a quegli importi Sarà stato veramente così? Avrà fatto solamente Questi importi? Andiamo a vedere C'è qualcosa di strano Che notate? Mancano un po' di operazioni E voi dite come mai? E io dico Me lo domando pure io Quali sono quelle che hai identificato? Allora 17 dicembre 17 dicembre Di 4,99 Eccolo qua 9 Mettiamo la tonte verde Questa c'è Poi abbiamo 18 dicembre Eccola qua Questa C'è E poi abbiamo 21 dicembre Eccola qua Questa C'è Ora Che tocca fa? Speriamo che si sincronizza tutto Entra fine dell'anno Speriamo che il sistema riconosce O comunque Ci hanno fregato Cioè Questa persona è stata fregata Non lo so Non lo so Non so cosa pensare Ora Questa cosa qui Mi fa pensare che Quando ha appoggiato Con l'NFC Ho inserito Con il chip Questa carta O Quando gli hanno chiesto Carta O Bancomat Questa persona ha risposto carta E quindi È correttamente visualizzato La carta C'è il logo Di Mastercard Oppure Non è Non gli ha detto niente E in automatico Il Sistema È andato Con quel Con quel circuito là Ma ora mi domando Il problema era A prescindere Se la carta Aveva il doppio circuito E non sapevamo Su quale Dovevamo inserirla Se su carta Pago Bancomat O su carta Debito Credito prepagata Ve lo faccio vedere Adesso questa carta È stata aggiunta Andando qua In aggiungi carta Metodi di pagamento Carta di credito Debito O prepagata Ora qui non visualizza Per apra Epa sì Comunque C'è La classica schermata Dove inserire Nome e cognome I numeri Della carta Del banco mat Scadenza Cvv Eccetera Andando pure Su carta Pago Bancomat Invece Registravamo Con il circuito Pago Bancomat E lì ho notato Che magari Non era pronto Almeno per questo Periodo natalizio Quindi In questo caso Questa fase Era sconsigliata Farla Voi avete fatto così Se avete Il banco mat Lo rifaccio Rivedere Con questi due simboli qua Primo circuito Secondo circuito E comunque Perché poi Vengono visualizzati Solo Quelle tre Che non si spiega Cioè per dire La farmacia Che per forza No la farmacia Addirittura Alcune volte Dovete dare Codice fiscale No la testera sanitaria Quando acquistate Alcuni farmaci Alcuni prodotti Dalla farmacia Quindi sicuramente Quella doveva passare E qui Ne sono passate Tre su Uno Due Tre Quattro Cinque Sette Otto Nove Dieci Undici Sono passate Tre operazioni Su undici Chi è che sta messo così Chi è che sta messo un po' meglio Chi è che sta messo ancora peggio Fatemelo sapere qui sotto Nei commenti Che sono curiosissimo Non curioso Curiosissimo Andiamo ora al terzo Ultimo caso Terza persona Terza banca In questo caso Si tratta di BNL Banca nazionale Del lavoro Terza persona Vediamo qui Succede di tutto Tenetevi pronti Che qui succede Veramente di tutto Andiamo Sullo schermo del telefono Prima però Vi faccio vedere Le carte Questa volta Non la carta Le carte Perché Inizialmente Ha utilizzato La carta Ha utilizzato La carta di credito Questa qui La classica Mastercard Ogni tanto Però Ha utilizzato Questa persona Il banco Matt Questa verde Che Guardate bene Ha Il doppio circuito Banco Matt E Maestro Questa volta Non Mastercard Maestro E questa persona Dove l'ha registrata La carta di credito Su carte Il banco Matt Dove l'ha messa Adesso Ve lo faccio vedere Ed eccoci qua All'interno dell'app Io anche con questo Terzo telefono Andiamo su portafoglio Vediamo la situazione Qui abbiamo La carta di credito Che finisce con 37 Questa volta La carta Memorizzata Andando Con Il circuito Pago Banco Matt Quindi questa persona Questa persona cosa ha fatto E' andata su Aggiungi E' andata su Metodo di pagamento E Questa carta Ricordo sia Questa qui In verde Non l'ha registrata Su carta di credito Debito O prepagata Anche perché Gli dava errore Quindi Ho detto E mo come faccio Dava errore Pensava che era una di debito Dava errore E' andata su Carta Pago Banco Matt E' andata qua su Continua Ha inserito il nome Della banca Penso Ecco come vedete La carta l'ha già riconosciuta E' andata Su Aggiungi E' l'aggiunta Dopodichè ha messo Vuoi attivarla Per farla funzionare Col cashback Gli ha dato si Ed è a posto Quindi tutte le carte Possono essere utilizzate Per partecipare A questo cashback Però Cosa succede? C'è il stesso discorso Di prima Stessa domanda di prima Quando vai a pagare Col Banco Matt E se non ti dice niente La cassiera O chi per lui O chi per lei Ok E si dice Carta o Banco Matt Se dici carta Sbagli? Devi dire Banco Matt Però poi abbiamo visto Abbiamo letto gli articoli E Ma se dici Banco Matt No Devi dire carta Perché il Banco Matt Ancora non è Penamente supportato In questo Primo mese In questo mese di dicembre Ci sono ancora degli errori Quindi ti sei giocato Tutte le operazioni fatte? Troppe domande Ci sono in questo video Andiamo su cashback Due transazioni valide Su dieci Secondo voi Questa persona Quante operazioni Ha fatto Nel mese di dicembre? Non lo so Neanch'io Non me le ricordo Ora andiamo a vedere subito Le due carte sono attive Anche le ha inserito Uniban Dove accreditare poi Il cashback ottenuto Dettaglio Transazioni Secondo l'appe io Dall'8 dicembre A 31 dicembre No Vabbè 29 dicembre Hanno state fatte solamente Due transazioni Questo è l'importo E questo è il cashback Relativo importo Vabbè Il cashback È giusto Rispetto all'importo Ma veniamo a noi Secondo voi Gli importi sono giusti? Ma queste sono le operazioni Fatte con questa carta Quella che finisce con 1537 Togliamo le due operazioni Fatte Su Amazon Che come sappiamo Online Non Viene riconosciuto il cashback Come è giusto che sia Come è da regolamento Il 12-12 E il 13-12 In questi due negozi Uno a Capena E uno a Roma Con questa carta Sono state fatte delle spese Di tre cifre E Quindi più di 100 euro Sia il 12 che il 13 Ed ecco qua Effettivamente I conti Tornano O meglio Su quello del 13 Sì Ma su quello del 12 Qui mi è segnalato Un importo Questo Ve lo devo far vedere Di 400 euro Secondo l'appio Ma in realtà Questo importo È di Guardate di quant'era 300 Com'è possibile Che su un'operazione L'appio segnala 100 euro in più Mai spesi Qui c'è proprio qualcosa Che non quadra Addirittura Dopo queste operazioni Fatte con la carta di credito Che termina con 1537 Le altre operazioni Sono state fatte Con il Bancomat E guardate quanti Di là eravamo due Qua sono Una Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Sedici operazioni Fatte in questo modo Con la carta Bancomat Registrata Su Bancomat Quindi non su carte debita Anche perché non gliela registrava Gli dava errore Gli dava impossibile inserire la carta Carta non riconosciuta Dava errore L'unico modo Era inserirla su Questa opzione qua Carta pago Bancomat Ora Io mi chiedo Questi sono gli importi della spesa Dove x vale un numero da 0 a 9 E la somma di questi importi è ampiamente sopra E poi le operazioni sono ampiamente sopra Le 10 transazioni valide Anche questa persona è stata fregata dal sistema Chi è che sta in queste condizioni? A chi invece sono visualizzati gli importi Usando il circuito pago Bancomat A qualcuno o a nessuno E per farvi un esempio Ecco qua Sono andato su l'ultimo sito che mi è capitato Cashback di Natale I problemi legati ai acquisti con Bancomat Le carte E che ho acquisti fatti in modalità contactless Potrebbero non essere validi Sono le cosiddette carte co-page Cioè col doppio circuito In italiano Pago Bancomat O maestro O pago Bancomat V-Pay Che tra l'altro poi in G-Direct Ha il Bancomat Che è o solo V-Pay O solo Mastercard Non c'è il doppio circuito Non tutte le banche quindi Che hanno il Bancomat Anche il doppio circuito Forse se le persone hanno utilizzato il Bancomat Che non hanno il doppio circuito Si sono salvate Anche questo fatemelo sapere Qui sotto in descrizione Perché sono non curioso di più Il problema con queste carte È che hanno due numeri PAN Ovvero due numeri di carte diversi Se abbiamo inserito nell'appio Una carta con un doppio circuito Solo come carta Bancomat Gli acquisti contest Non saranno riconosciuti Perché avvengono tramite L'altro circuito Maestro O V-Pay Il problema è che Ok La persona che aveva intesa L'ha messa come carta Non ha provato a metterla come Bancomat Mentre la persona che aveva BNL Che ha messo La carta Su Pago Bancomat L'ha messa lì Perché non gli dava errore Mettendola Su Carta Come fosse una carta di debito Quindi uno che cosa doveva fare Secondo il sistema cashback Non inserire la carta Bancomat Nel Pago Bancomat Perché tanto quello Non funziona E allora perché me lo metti come opzione? Toglimelo Almeno non me lo metti Nel periodo natalizio Mettimelo a gennaio Se sarà sistemato il problema Quando sarà sistemato Perché così Fai credere alla gente Che anche usando il circuito Pago Bancomat Le carte funzionano E allora non lo so Dovevi mettere questo qua Come vedete qui c'è un numero C'è un numero qua sotto E quello allora faceva riferimento Al numero Del circuito Maestro in questo caso Mentre quello che ho inserito io Del circuito Bancomat Non fai capire bene La gente come si deve comportare Per chi ha Questo tipo di carte qua Tornando a noi Tre persone diverse Tre banche diverse Una persona ha usato solo la carta di reddito Io Una persona ha usato solo il Bancomat Registrata su carta Una persona ha usato sia la carta di reddito Che il Bancomat registrata su Bancomat Gli ultimi due persone Problemi hanno avuto Di cui l'ultima addirittura un importo sballato Differenza di 100 euro Solo la persona che ha usato Sempre solo la carta di reddito Della banca IngiDirect Io Non ho avuto problemi Ora mi domando Come concludo questo video? E ve lo dico io Come concludere questo video Salve sono potterino 10 del futuro Cioè di due giorni dopo Oggi è il 31 12 20 20 Come concludiamo questo video? Guardate qua Cosa ne ho dato di strano? Questa qua in rosso È Il mensile Che pago a Fastweb Per internet E pago con Domiciliazione bancaria Non con read Quindi non Che mi tolgono i soldi Dall'Iban Della banca Ma Dalla carta Di credito In questo caso E non si era detto Che in quel caso Quindi i pagamenti automatici Con le bollette Non venivano considerati Gli importi A quanto pare no Quindi Vi avviso Se avete la possibilità Ok Se pagate con il bollettino Alle poste Quello Deve essere per forza considerato Se avete la domicilazione bancaria E avete il read A questo punto Vi consiglio di cambiarlo Se potete fare E mettere il pagamento automatico Tramite carta Così guadagnate il 10% Al mese Sull'importo Certo però Se poi avete il pagamento Bimestrale Allora un mese Lo perdete A me Fastweb Mi toglie ogni mese Ogni mese Pagherò internet 10% In meno A quanto pare Così è andato a caso Se no Manco provavo a fare Questa operazione Questo tentativo qua Poi ok Qui vedete altri importi Per esempio Queste due fatte ieri No L'altro ieri Il 29-12 Registrata il 30 E ci sta Oggi è il 31 Ci sta Che ancora non le visualizzo Magari le visualizzerò domani O dopo domani Pare che i giorni di festa Il sistema Non gliene importi nulla Quindi Domani o dopo domani Credo che visualizzerò Anche queste due operazioni Sull'app io Ma questo Se vorrete Lo farò vedere In un prossimo video Se volete farlo girare Lasciate un like Condividete Fate come vi pare Vi ricordi i social Potterino10 Instagram Facebook GTV TripAdvisor Questo video Più cresce E più Vi fa capire Come Funziona questo cashback Come Non funziona Questo cashback Capite? Seguitemi su telegram Se volete Sconti offerte Potterino10 Ogni giorno pubblico Vari sconti offerte Di prodotti Tecnologici E non solo Da potterino10 È veramente tutto Io vi saluto Vi mando un abbraccio E noi ci rivediamo A un prossimo video Che amarezza Ciao Ciao Grazie a tutti